Il interno della rubrica Tocca a noi con Paolo Bellini, gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione, ricordiamo una delle coordinate, il numero per sms e messaggi whatsapp, tra l'altro già pieno di sms, il 338 17 19 105. Allora, cominciamo con parlare di questo periodo particolare insomma, della strage di Dacca. Credo che sia tutto a tutto dire, chi pensava che il terrorismo non esistesse, chi pensava che questa matrizia islamica estremista potesse colpire solo in Europa o in alcuni punti credo che abbia fallito, purtroppo abbiamo visto cosa è successo in quel di Dacca, credo che sia tutto da dire. Ripeto, oggi deve esserci una risposta forte da parte, mi viene da sorridere, Europa anche qua, dopo vedremo anche il perché, sorrido sull'Europa, visto le tensioni che ci sono anche all'interno dell'Europa sotto un punto di vista da rimanere uniti, però credo che oggi sia fondamentale una risposta unita perché stiamo correndo veramente un grande rischio e nove nostri connazionali ma questa volta è toccato ai nostri connazionali, poi una volta i russi, una volta i francesi, anzi i francesi più volte, oggi credo che sia arrivato il momento di dire basta e costruire un percorso molto chiaro e preciso. Stavo mentre parlava pensando a tutto quanto è stato detto, le parole spese inutilmente in questi decenni, perché si parlava di un esercito europeo, di una forza comune eccetera eccetera, non è stato fatto niente. No, è da parecchi anni inoltre che continuiamo a dire attenzione che sono qua in casa nostra e tutti la prendevano a tarallucci e vino e ora abbiamo visto cosa sta succedendo. Per cui, dunque, poi anche seguendo i messaggi, guardi ne approfitto, magari approfitto di qualcuno di loro, proprio perché c'è stata una strage recentemente, vediamo forse anche più di un messaggio, vediamo. Bellini, mentre si buttano miliardi per una ferrovia parallela a un'altra, la gente muore perché ci sono ferrovie con binari unici e guardi, anche la Brescia-Edro, la Brescia-Cremona e la Brescia-Parma, prima ci sono altri interessi. Parlare di ferrovie diventa complicato, lo so che quello che è successo è una cosa veramente incredibile e molto dolorosa perché 23-24 vittime e poi abbiamo cinquantini feriti in condizioni molto gravi. Però il binario unico non è il problema di fondo, dello scontro piuttosto che, perché pensate che in Europa ci sono tratte importanti anche di alta velocità che sono su binario unico, ci sono parecchie tratte anche in Spagna che sono di alta velocità che sono su binario unico, così come in tutta Europa. Quindi non è il problema del binario unico. Il problema sono i controlli, i controlli che devono essere fatti in maniera adeguata, devono essere strutturati in maniera conforme a quelle che sono le caratteristiche tecniche della linea e dopo purtroppo, ahimè, a quanto sembra, prendiamo tutto con le pinze, sembra che ormai sia quasi accertato che questo scontro dipenda quasi esclusivamente dal fattore umano. Purtroppo l'uomo a volte sbaglia. Adesso non è che le statistiche, quando muoiono delle persone è sempre disdicevole andare a guardare le statistiche, però le statistiche dicono che in Italia rispetto a tutta l'Europa la percentuale è molto 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 inferiore, il dato medio è molto molto inferiore rispetto a tutta l'Europa. Però sicuramente questo non solleva chi di dovere dalle responsabilità e non solleva sicuramente dal dolore tutti noi, ma soprattutto i familiari. E quindi sì, effettivamente è ancora il treno al mezzo più sicuro, nonostante questo, è ancora obiettivamente. Per quanto riguarda poi altri messaggi anche, parlando di politica, le vorrei chiedere anche, ecco qua, questo messaggio di Danilo, che dice, io ho sentito il Premier Renzi in un'intervista e ha praticamente solo parlato male di un altro partito che poi è quello di 5 Stelle. Dobbiamo votare per lui perché parla male di altri o per quello che fa? E questa è una cosa, obiettivamente, osservando le varie trasmissioni politiche che ci sono sui media nazionali, non solo quello di Stato ma i vari media nazionali, è vero, la fiera delle parole per parlare male di altri, ma nessuno che dica io faccio questo, io voglio fare quest'altro. Se io spendo tempo a criticare gli altri, a parlare male degli altri o a discutere sugli altri, non ti do informazioni che per te sono vitali e importanti. Quindi bypasso questo tipo di politica, anche perché probabilmente non hanno le risposte. Chi parla degli altri è perché non ha argomenti da proporre alle persone che si trova di fronte, agli interlocutori. Questo per me è il mio pensiero. La democrazia è fatta di informazione, la democrazia è fatta di mettere in condizione, il politico democratico deve avere uno scopo importante nel momento in cui dialoga con le persone, deve mettere in condizione queste persone di capire quello che sta dicendo e deve mettere in condizione queste persone di poter scegliere, perché ricordatevi e ricordiamoci che noi sappiamo scegliere. L'importante è che le cose vengano spiegate e vengano dette. Cambiando argomenti, beh a parte che è arrivato un messaggio che diceva, scusi si parla tanto di terrorismo, ma poi di fatto non si fa mai nulla. Adesso questo non lo so, perché in Italia obiettivamente forse siamo allenati con le BR eccetera. Se dopo qualcuno dice che siccome la mafia fornisce le armi allora noi non ci attaccano. Ah, ecco, va bene. Allora, dunque, altri messaggi, dunque, vediamo. Ecco, restando un attimino sul pezzo, non che sia legato, precisiamo, però appunto viene lanciato l'allarme insomma da parte di molti, di molte forze politiche anche. Dice, cosa ne pensa del fatto che Boldrini e Boschi sono andate a fermo al funerale dello straniero, cosa giustissima, però nessuno rappresentante delle istituzioni è noto in Sicilia al funerale di una donna italiana che lo stesso giorno era stata uccisa da uno straniero. Io leggo solo questo, dopo ognuno decide, certo che quando c'è un morto è un morto. Questa è la signora, si chiama Pisana Bacchetti, è la testimone principale di quello che è successo a fermo. Dice, purtroppo ho assistito alla scena ed ho visto che il giovane Fermano, cioè colui che poi con un pugno ha ucciso il nigeriano, prima di disferrare il pugno è stato letteralmente assalito dalla vittima e da sua moglie, lo hanno picchiato per 4-5 minuti e lo hanno colpito anche con il palo di un segnale stradale. E lei aggiunge, ero presente, aggiunge la donna, e voglio precisare che quel povero ragazzo nigeriano, prima di cadere a terra per un pugno subito, si è reso protagonista di un vero e proprio pestaggio del 39enne Fermano. Per 4-5 minuti è stato attaccato simultaneamente dal giovane di colore e da sua moglie. Lui, il nigeriano, addirittura lo ha colpito con un segnale stradale trovato nei pressi facendolo cadere a terra e poi hanno continuato a picchiarlo. Quando ho visto la signora Bacchetti, quando ho visto quella scena, ho chiamato la polizia perché temevo per l'incolumità del 39enne Fermano, che è reagito con un colpo purtroppo per la vittima ben assestato. Qualcuno ha cercato di intervenire, ma è stato preso a scarpate dalla moglie del giovane di colore. La moglie aveva fatto oltre tutto una telefonata ed erano arrivati una quindicina di nigeriani pronti ad entrare in azione. E lei poi termina, poi diventa difficile parlare di razzismo, ma dovevate esserci per capire la furia della crescione ai danni del giovane Fermano, italiano. E qua mi fermo e poi le indagini diranno quello che è stato e quello che non è stato. Certo che l'omicidio c'è, questo è fuori discussione. Fermiamoci un attimo con Paolo Bellini e rubrica Tocca a noi e torniamo tra un paio di minuti. La rubrica Tocca a noi con Paolo Bellini. Ci sono tantissimi messaggi in uno. Michele dice, ma secondo lei come andrà il referendum? Perché i media nazionali sono schieratissimi con Renzi. Beh, obiettivamente, adesso non so, però capita soprattutto di sentire parlare pro. Ci sono parecchi quotidiani, parecchi media nazionali che sono allineati e sono schiacciati sulla forza di governo. Qualcuno di voi ha sentito, ma che è già da parecchi giorni, che la sinistra democratica tedesca ha chiesto con voce forte alla Merkel, quindi i due partiti di governo, l'ESPD e il CDU, di costruire e di fare un referendum su cosa pensa il popolo tedesco per rimanere in Europa? Nessuno. Nessuno l'ha scritto. Nessuno l'ha scritto. Quindi sono schiacciati completamente. Dopo come penso che andrà il referendum? Io non ho la sfera di cristallo, sinceramente non sono mai stato abituato ad azzardare o fare previsioni. Mi limito a continuare a dire una cosa. Innanzitutto dobbiamo andare a votare perché è un nostro dovere. Innanzitutto. Innanzitutto dobbiamo andare perché è un nostro dovere. Secondo, io faccio una domanda a me stesso e a tutti noi. Siamo perfettamente consapevoli che l'Italia è una repubblica parlamentare, però è anche vero che il primo articolo, un articolo importante, dice che il popolo è sovrano, il popolo italiano è sovrano. Bene, questo è il quarto o quinto governo che non è eletto dal popolo. È stato nominato da tecnocrati e burocrati, a piacimento anche di qualche Presidente della Repubblica, tanto per essere chiari. Abbiamo visto cosa hanno fatto in questi 4-5 anni, 3-4 anni. E qui è un altro discorso. Uno dice che il Parlamento, secondo la Costituzione italiana, è il Parlamento che può nominare il Premier e il governo. È vero, è vero. E allora entriamo nel discorso del Parlamento. Ma questo Parlamento ci rappresenta? Innanzitutto abbiamo un Parlamento dove circa il 10%, perché su un migliaio di parlamentari, tra Senato e Camera, su un migliaio di parlamentari, il 10%, circa un centinaio, è indagato, condannato e iscritto a registro indagati, compreso il nostro amico Renzi. Il 10%, attenzione amici, il 10%. Secondo, ma quanti di questi signori che noi abbiamo eletto, che noi abbiamo votato con una casacca, oggi sono da un'altra parte? Quanti questi signori prima erano all'interno di una forza politica e oggi sono all'interno di un'altra forza politica o hanno costruito tutt'altro? Quindi questo Parlamento ci rappresenta? Come fa a nominare un governo un Parlamento che non ci rappresenta? Un Parlamento dove il 10% forse è il più corrotto, è il più indagato, il più condannato d'Europa, secondo me. Minimo, minimo d'Europa. Allora, è legittimato questo Parlamento a proporre e a fare una riforma costituzionale? Punto di domanda. Ed era la nostra priorità? Punto di domanda. E che benefici dà al lavoro, alla povera gente, alle difficoltà questa riforma costituzionale? Era questa la priorità vera? Ecco, questa è la mia domanda, che continuo a fare. Ognuno di noi poi può trarre le conclusioni che più ritiene opportuno e poi comportarsi di conseguenza. Vediamo, Dario dice, finché non facciamo pulizia dentro non saremo mai forti abbastanza per imporre il nostro parere in Europa. Tra l'altro, ecco, a tale proposito ci sono anche molti riferimenti alle immagini dei dipendenti di quest'ultimo, per prima ancora 20 miglia, obiettivamente anche la cappa dei vigili, tra l'altro, in quest'ultimo caso che aveva chiamato i carabinieri per sapere se stavano indagando su di loro. Anche qua, dobbiamo fare le leggi dove non c'è niente da fare, dobbiamo essere licenziati immediatamente, in tronco. Licenziati immediatamente in tronco. Tranne poi che poi il sindacato fa carte false per poterli far riassumere. Quando c'è tanta gente che è a casa che voglia lavorare, invece questi sono dei lazzaroni e truffatori, perché truffano lo Stato, e vengono premiati, perché il sindacato li difende. Lo Stato era assente, ci hanno precisato anche per le vittime di Cabobo. Cabobo era quel signore che è armato di piccone a Milano. Boldrini e Boschi hanno realizzato l'opera prima, sono andate a fermo, a tanto di cappello, perché è un funerale, è sempre un funerale, però le vittime di Dacca, del terrorismo, Cabobo che ha ammazzato 3, 4, 5 persone a picconate. Lo Stato o fa lo Stato sempre o fa un telegramma, come hanno sempre fatto, come hanno fatto nelle altre occasioni. Punto. A tale riguardo, un giorno poi mi piacerebbe che con lei ragionassimo su una cosa, che c'è scritta su tutti i tribunali la legge uguale per tutti, ma ci sono tutti più tutti di altri. Probabilmente ci sarebbe. Solidarietà alle vittime della Puglia, adesso dopo 20 morti speriamo che facciano qualcosa. Possiamo dire che Del Rio oggi in tutta fretta ha detto si stanziamo dei miliardi, è proprio di oggi la notizia, adesso non l'ho vista nel dettaglio, ma ovviamente. Un mio amico ha scoperto uno a rubare, lo ha preso, lo ha portato in ufficio, un signore lo ha rimproverato dicendo che lo stava trattando male, questa è l'Italia. È stato fortunato questo nostro amico, che non è stato denunciato per sequestro di persona, perché può capitare anche questo, ahimè. Dunque Enza dice che ci portano ad essere razzisti, ma siamo noi le vittime. È la realtà, è la realtà, ma non è che siamo razzisti, noi pretendiamo di avere gli stessi diritti, invece qua non abbiamo gli stessi diritti degli extracomunitari che arrivano qua. Ed è questa la... non è che ci portano ad essere razzisti, è che ci stanno ghettizzando gli italiani, li stiano ghettizzando. Naturalmente non tutti abbiamo le stesse reazioni. Allora, altro messaggio, vogliono far arrivare la City all'Expo, ma per ora arriveranno solo clandestini, dice Luigi. Doveva essere un punto di grande spolvero per Milano, doveva essere il polo della ricerca, doveva essere il polo di un sacco di cose, adesso vediamo cosa diventa. Poi ancora, riforma scolastica, insomma c'è qualcuno che contesta, dice ciuffa, dice insomma... Riforma scolastica l'ha fatta per trovare posti di lavoro. Ecco, cosa ne pensa? Qua andiamo sul locale. Referendo Solferino-Cassiglione, ecco uno spreco di denaro pubblico. I cittadini di Solferino hanno detto di no, punto. C'è già stata una consultazione, penso che sia, tra le altre cose, in maniera molto chiara, perché sono espresse in maniera molto chiara, però sono vicende territoriali, non entro nel merito. Poi le scrivono, il Lago di Garda è più rinquinato. Questa lo devo smentire in maniera categorica. Il Lago di Garda è tra i più puliti d'Europa. Il Lago di Garda negli ultimi vent'anni ha avuto una crescita, nel senso della pulizia, veramente incredibile. E questo va dato merito anche al depuratore, al collettore che c'è a Peschiera, che è gestito dalla GS Garda 1. Tra le altre cose, vi voglio segnalare che comunque Lega Ambiente è sul territorio a fare tutte le sue misurazioni, a fare tutti i suoi prelievi e vi garantisco che sono prelievi che danno degli esiti molto, ma molto soddisfacenti. Non ultimo, è stato dato in carico alla Marina Militare, quindi a degli esperti della Marina Militare, a monitorare e quindi a fare dei test e misurazioni sulla condotta sublaquale che attraversa il Lago. Credo che questo sembrava messa molto peggio, ma dai primi rilievi sembra invece che ci sia la situazione un po' più ottimistica. Allora, un'altra, sì, a parte il fatto che poi Lega Ambiente ha rilevato quello che ha detto il Presidente Garda 1 Mario Bocchio, poi ai nostri microfoni nella giornata di martedì ha detto sì, ci sono alcuni punti dove sfociano i torrenti eccetera. La cosa è confermata da Lega Ambiente. Allora, altro, salutiamo anche chi ha scritto questo messaggio. A cosa servono i consorzi? A me sembrano baracconi di incapaci che non hanno ottenuto l'elezione da qualche parte e che non funziona. Allora, saluto Piera che mi ha dato questo messaggio. Dipende da che consorzi. Noi abbiamo questa azienda che è Garda 1, che gestisce i nostri servizi, soprattutto il servizio di un integrato dopo anche il ciclo dei rifiuti e funziona. È completamente a partecipazione pubblica. È un territorio importante sia come vastità che come, diciamo così, economia che ha affidato questi servizi e ha costituito questa società che negli ultimi vent'anni ha sempre funzionato e non ha mai creato debiti. Ha sempre costruito interventi importanti sul territorio. Ha sempre investito sul territorio. Credo che questo sia fondamentale. Saluto Simone che dice che col sacchetto del pane in testa andavano a timbra. Io l'ho visto anche con uno scatolone a scarto. Ebbene mettergli lo scatolone, incerottato bene e mandarli in giro per la strada in questa maniera qua, che quando prendono qualche craniata almeno si accorgono di quello che hanno fatto. Guardi che il sole caldo può dare alla testa, quindi insomma coprirla è un... Sì, sì. Siamo veramente l'assurdo. Davvero. Allora, siamo arrivati a questo punto, al momento del Per chi suona la campana. Per chi suona la campana? Per chi suona la campana? Per chi suona allora la campana? La suoniamo un'ennesima volta a Deutsche Bank. Cinque indagati per manipolazione su titoli italiani. La Deutsche Bank di Francoforte sulmeno è indagata per manipolazione di mercato dalla procura di Trani. Questo è tutto dire. La campana poi la suoniamo a Sua Eccellenza l'Onorevole Boschi e a Sua Eccellenza l'Onorevole Boldrini. Penso che sia stata tutta scena quella promozione, quella di andare ai funerali del povero nigeriano, quando altri morti, come abbiamo visto, probabilmente meritavano la stessa attenzione. Quindi suoniamo la campana e suoniamo la campana alla sinistra tedesca così come anche alla signora Merkel. Perché la sinistra tedesca di Linke, tramite il suo portavoce Sarah Wagenknecht, scusate la pronuncia, ha esortato i due partiti di governo SPD e CDU a indire subito, immediatamente o al massimo entro la metà del 2017, un referendum su come percepiscono o vogliono rimanere o no in Europa il popolo tedesco. E poi l'ultima campana, ancora una volta, la suoniamo all'acqua. L'acqua non è più pubblica, non è più solo pubblica e dobbiamo ringraziare un emendamento del PD approvato in Commissione Ambiente dove dice che l'acqua può anche essere privata, quindi salta a pie pari quello che era il referendum del 2011. Quindi grazie, suoniamo la campana all'onorevole Chiara Braga, deputato del PD. Signori, grazie a tutti, ci vediamo a Pozzolengo durante le manifestazioni. Grazie, arrivederci. E poi che diavolo, siamo tutti italiani, siamo italiani, vediamoci sopra! Per la tua casa tutto diventa più facile. Al colorificio Ingegner De Senzani a Castiglione Produttura Ingegner De Senzani a Castiglione